Buongiorno numero 2, Alice, buongiorno numero 3, Cassini, buongiorno numero 7, Rosa Maria, buongiorno numero 13, Rossella, buongiorno numero 15, La Nette, buongiorno numero 16, Caterina, Buongiorno numero 14, Caterina, buongiorno numero 14, Giorno! Signor, signor, buongiorno numero 16, Cameo! Buongiorno numero 4, going, Caio! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.